Vi dico secondo me dove possono arrivare queste nazioni al mondiale in Qatar Belgio dico ai quarti di finale Vediamo questa Arabia Saudita ai gironi, fuori subito Marocco, il Marocco secondo me uscirà ai gironi, ha una bella squadra ma uscirà ai gironi Ghana anche loro ai gironi Vediamo un po' chi esce Brasile, Brasile dico semifinale Galles per me agli ottavi Vai l'ultima vediamo chi esce Croazia, la Croazia secondo me agli ottavi